giugno giusta allenatore Antonio del numero 1 Gianluigi numero 3 Giorgio numero 6 Pallapene numero 8 Claudio numero 9 Mirko numero 15 Andrea numero 19 Mirko numero 20 numero 21 Andrea numero 22 4 numero 27 Fabio a disposizione con il numero 3 4 Casanas 11 Roccecchie 13 Coruso 24 Roccecchierini 31 Madri con il numero 33 Isla Bianca Nelli fuori la voce in alto i colori e fina la fine volta a tutti Maria la russa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.